Un secondo, questo lo facciamo, sì. Lì non lo facciamo, no, là non lo facciamo, no. Educazione. Un po' di educazione fa sempre il bene. Questa faccia così non serve a niente, si tratta di educazione. Si tratta di educazione. Mi ho spiegato e lei ci riparla. Tu appoggi questa rivolta, non l'appoggi. Quindi siccome non è deciso tu, non l'appoggi. A meno che è successo, ascolta. Che è successo? Ascolta, non ho attenzione. No, però, te lo dico io, mi senti sintetizzato. Abbiamo fatto un percorso trasferito sui giornali, batti, appelli, controappelli, batti, sottoscritto. Per l'altro, sei contento o no per la mia città? C'hai un'alternativa? E allora siamo tutti con un po' di rivoluzione. Tu lo devi essere. Capito, Chiara? La vita funziona così, che bisogna anche essere pratici se si è inseriti in una struttura complessa. Che cosa vuole fare? Non vuole dire no? Terminiamoci blocchiando di un'altra. Non vuole fare, semplicemente parlare. Non vuole fare. Non vuole fare, semplicemente parlare. Forza, forza. Io mi aspetto anche il tuo conto. Non vuole fare. Grazie.